Con il mister del Real Forio, Carlo Sanchez, per parlare del prossimo turno di campionato che sarà il Salvatore Calisse contro la Virtus Afragola. Mister, prima di parlare della prossima partita, le chiedo innanzitutto come è andato questo allenamento settimanale e soprattutto che aria si respira, perché immagino che ci sarà una bella aria di felicità tra i ragazzi. Si è stata una bella settimana di lavoro, come ultimamente sta capitando spesso. E deve continuare in questo modo perché comunque, lo dico sempre, ci stiamo divertendo, stiamo facendo bene, stiamo facendo un buon campionato, buone prestazioni. Dobbiamo però proseguire su questa strada perché basta fermarsi un solo minuto e tutto ritorna indietro in maniera negativa. Noi le negatività non le vogliamo, vogliamo lavorare bene e vogliamo soprattutto divertirci perché alla base, lo dico sempre e lo ripeto ancora, è tutto un gioco e se il gioco viene divertente è ancora meglio. È una stagione che è partita molto bene per il Real Forio, in particolar modo le ultime due prestazioni sono state importanti, due vittorie, nove gol fatti, un solo gol subito. È questo il Real Forio che ci possiamo aspettare per la stagione? È questa la vera forza del Real Forio? A me dispiace tantissimo non essere partiti meglio perché potevamo passare il turno di Coppa dove secondo me meritavamo tantissimo rispetto delle due prestazioni, però purtroppo abbiamo messo la pietra sopra. Sì, noi siamo in un buon momento, domenica affronteremo un'altra squadra complicata, un'altra squadra importante perché ha vinto l'anno scorso la promozione, è il primo anno che fanno l'eccellenza, quindi dobbiamo stare attenti perché le insidie sono sempre dietro all'angolo. In più, ogni qualvolta si affronta una squadra che se è in un buon momento è attenzionata e tutti cercheranno di fare punti. Quindi noi abbiamo la prerogativa di stare super motivati, di stare carichi, portare qualcosa di importante a casa, portare un risultato che ci dà ancora più fiducia di quello che stiamo facendo perché solo in questo modo possiamo fare ogni giorno uno step e poi vedremo in maniera molto più a lungo possibile. Che Virtus da Fragola si aspetta? Non sta vivendo un buon momento la squadra che verrà a Salvatore Calise? Che avversario si aspetta? Ho detto prima, un avversario complicato perché a volte nei brutti momenti ti ricompatti, hanno cambiato l'allenatore in settimana, ti ricompatti, ti abbracci e ti porti avanti una sensazione di superare quel periodo negativo, quindi mi aspetto una squadra che verrà qua con la fame, con la voglia, con la dimostrazione che il periodo negativo deve essere messo alle spalle, però dal punto opposto troverà una squadra che sta motivata, che sta a carica e deve pensare esclusivamente ad ottenere tre punti perché noi abbiamo bisogno in questo momento di continuare nella nostra scia, poi partita per partita vedremo con il lavoro settimanale quello che sarà il prossimo futuro. D'altro canto c'è un Real Forio che in casa ha sempre vinto, ha sempre fatto ottime prestazioni quest'anno, che squadra vuole vedere domani, che Real Forio vuole che scenda in campo, che cosa chiederà ai suoi giocatori? La consapevolezza di essere una squadra forte, di essere sempre più sicuri che siamo una squadra forte ma di dimostrarlo ogni secondo che giocheremo una gara, di dimostrarlo consecutivamente nelle 90 minuti di gara e di dare la dimostrazione a noi stessi per prima e poi dopo alle persone che ci sostengono, ci stanno vicino, che comunque possiamo fare un campionato importante. Solo in questo modo qua possiamo ottenere qualcosa di bello e che ci porterà a un qualcosa di strepitoso. Ne sono convinto perché vado a sensazioni e credo veramente in questo gruppo, io mi diverto ogni qualvolta li alleno, mi diverto ogni qualvolta li vedo in campo, è bello dialogare con loro anche esternamente al campo, è un allenatore che non può avere empatia migliore di lavorare con un gruppo di belle persone al di là degli ottimi calciatori e io ogni qualvolta sto là dentro, per me è una gioia. Pelliccia è tornato nell'ultima partita, per lui due assist che ci sono stati dopo l'infortunio, le chiedo se ci sarà ancora spazio per lui o il minutaggio potrà anche crescere? Sì, abbiamo tutta la rosa a completo tranne Blas che è martedì, cittadini che è martedì si integrerà anche lui col gruppo, siamo perfettamente integri e completi tutti, quindi questa è una cosa ancora più bella perché più ne siamo meglio è, Pelliccia ha fatto una ripresa importante domenica scorsa con un 30 minuti di minutaggio, sicuramente se ci sarà l'opportunità abbiamo un giocatore pronto, un giocatore completamente recuperato, poi vedremo durante la partita cosa succederà, però è un giocatore recuperato, è un giocatore forte, quindi su questo non ci sono problemi. La mossa di Iacono in difesa ha confermato ancora una volta la panchina lunga che ha a disposizione quest'anno, è un'opzione che avrà a disposizione anche per la prossima partita della Virtusa Fragola? Vediamo stasera, la formazione la ben o male me la immagino la sera prima della gara, infatti loro hanno degli input ma è la sera prima che decido chi andare in campo. Io sono arrivato il 14 febbraio qua a Forio e tra i due mesi e mezzo precedenti e il mese e mezzo attuali, due mesi attuali dalla preparazione, il ragazzo si allena, è il migliore in assoluto negli allenamenti, nelle prestazioni, nella voglia, nelle partite, un ragazzo che merita totalmente la mia fiducia perché è un ragazzo che ha voglia, ha passione, ama questi colori, è attaccato qua, è una delle persone che da più tempo che gioca a Forio, è un ragazzo che è simpatico, a me piace tantissimo perché comunque o un secondo o 90 minuti è uguale, la sua condizione, il suo ritmo, la sua voglia non manca. Si parla tanto a Forio del pacchetto Under perché è un pacchetto importante, è un prodotto proprio del vivaio della cantera, le vorrei chiedere qualcosa su riguardo a Niceto perché si è parlato tanto di lui in queste settimane, si è parlato tanto bene di questo giocatore che sta mostrando grandi qualità, se lo aspettava così a Niceto quando l'ha visto nel ritiro e questo è il giocatore che si era immaginato? No, non lo conoscevo, dico la sincera verità, quindi mi sono affidato tantissimo ai direttori che conoscevano il ragazzo già in precedenza, ma è stata una piacevolissima sorpresa, quindi è un ragazzo che ha qualità, un ragazzo che è giovane, che ha margine ancora di miglioramento, ma come ce l'hanno tutti i ragazzi che ho in gruppo, perché l'ho detto anche altre volte, domenica abbiamo fatto il debutto di Buono, un altro Under, ma ce ne saranno altri perché ho Tedesco che è pienamente recuperato e quindi anche lui veniva da un mese e mezzo di sosta per un infortunio, beh è un buon giocatore anche Tedesco, i due Verde, Piero e Gaetano si allenano benissimo e sono degli ottimi calciatori, oggi chi sta trovando poco spazio in questo momento sono loro, ma lo troveranno tranquillamente in futuro perché basta allenarsi bene, loro sanno che hanno una persona che se il gruppo si allena bene gli dà il campo, perché deve essere così. Ultima domanda? Scusami, non ci sono quindi gerarchie come uno potrebbe pensare. Importantissimo questo per i giovani, ultima domanda, più riguardante la partita di domani ma anche in linea generale, quanto è importante comunque per i giocatori, secondo lei, l'aspetto psicologico, capire che quello che si sta facendo è solamente l'inizio di un percorso che può essere importante? Tanto, perché tutto parte dalla testa, ogni movimento nostro, ogni sensazione, ogni gesto che facciamo parte dal cervello, se il cervello non è attivo possiamo metterci tutte le qualità che teniamo, ma non le sfruttiamo. Loro sanno benissimo che in questo momento qua è fondamentale la continuità, è fondamentale preparare le gare in modo meticoloso, chiaro, deciso, forte. Poi troviamo gli avversari, perché il calcio va in gioco dove si affrontano due squadre, si affrontano 22 ragazzi, si affrontano società, si affrontano tifoserie, si affrontano emozioni, si affrontano situazioni dove a volte ti va tutto bene, a volte anche se fai una prestazione importante non porti nulla a casa, però loro devono continuare su questa scia ed essere ancora di più consapevoli ma lo sono prettamente, di giocare in una squadra competitiva, una squadra che si può divertire e una squadra che può dare soddisfazione a questa società e a questo ambiente.